Henri Bersant, dentro di noi scorre un flusso. Vi è almeno una realtà che noi cogliamo dall'interno, per intuizione e non per semplice analisi. La nostra persona nel suo scorrere attraverso il tempo, il nostro io che dura. Può darsi che noi non simpatizziamo intellettualmente o piuttosto spiritualmente con alcun'altra cosa, ma certamente simpatizziamo con noi stessi. Quando faccio scorrere sulla mia persona, supposta inattiva, lo sguardo interiore della coscienza, percepisco dapprima una specie di crosta solidificata in superficie. Sono le percezioni che vi giungono dal mondo materiale. Tali percezioni sono nette, distinte e giustapposte o giustapponibili l'una all'altra. Esse cercano di raggrupparsi in oggetti. In seguito percepisco dei ricordi, più o meno aderenti alle percezioni e che servono ad interpretarle. Tali ricordi si sono come staccati dal fondo della persona, attratte alla superficie da percezioni che loro assomigliano. Essi sono posati su di me, senza essere in tutto e per tutto me medesimo. Infine, sento manifestarsi tendenze, abitudini motorie, una quantità di azioni virtuali più o meno solidamente legate a quelle percezioni e a quei ricordi. Tutti questi elementi, dai contorni ben definiti, mi appaiono tanto più distinti da me quanto più sono distinti tra loro. Orientati dall'interno verso l'esterno, costituiscono riuniti la superficie di una sfera che tende ad allargarsi e a perdersi nel mondo esterno. Ma, se mi raccolgo dalla periferia verso il centro, se cerco al fondo di me ciò che più uniformemente, più costantemente e durevolmente è me stesso, trovo tutt'altro. Al di sotto di quei cristalli ben tagliati e di quella superficie congelata, vi è un flusso continuo non comparabile a nulla di ciò che ho visto fluire. È una successione di stati, ciascuno dei quali preannunzia quello che lo segue e contiene quello che lo precede. In verità, essi non costituiscono stati molteplici se non quando già son passato oltre ad essi e mi rivolgo indietro per osservarne la traccia. Mentre li provavo erano così solidamente organizzati, così profondamente animati di una vita comune, che non avrei saputo dire dove uno qualsiasi di essi finisse e l'altro cominciasse. In realtà nessuno di essi comincia o finisce. Tutti si prolungano gli uni negli altri.